Bullismo come fenomeno culturale, come cercare di contrastarlo a livello istituzionale? Le istituzioni si occupano di questo tema ormai sempre più frequentemente, i comuni sono chiamati in particolare a reagire a queste iniziative e quindi anche il legislatore regionale si trova ad affrontare questo delicato tema, peraltro negli ultimi anni è cresciuto. È chiaro che le istituzioni insieme agli enti che si occupano dal punto di vista scientifico ed educazionale di queste cose hanno bisogno di creare una rete molto forte e trovare anche esperienze innovative per far sì che i nostri giovani crescano con una maggiore serenità perché insomma abbiamo bisogno di persone serene, di persone formate, di persone che poi ci diamo una mano, quindi intervenire alla radice è molto importante. Una realtà purtroppo molto diffusa tra i nostri ragazzi e anche i nostri adolescenti che porta poi delle gravissime conseguenze nella società per chi è carnefice, cioè operatore degli atti di bullismo, di prepotenze, di violenza e per chi lo subisce. Per chi appunto lo pratica avremo anche delle possibilità di avere dei fenomeni di devianza sociale, di esclusione sociale, quindi i giovani del domani che saranno purtroppo anche vittime di questi fenomeni di devianza e per chi lo subisce dei gravi fenomeni di depressione, ecco perché anche come Comune di Udine ci impegneremo a fianco appunto delle associazioni e delle istituzioni sia sanitarie che assistenziali per contrastarlo.